Acciaio, acqua, fuoco, passione, anima. La mano dell'uomo si ora i materiali, li accarezza, dona loro una forma e una sostanza. Taglia, leviga, modella, salda, sicurezza, affidabilità, qualità, durabilità. È un'arte tutta italiana, senza tempo e senza età. Oggi come allora, come se il tempo non fosse passato, come in un piccolo laboratorio artigiano, come colui che crea, elemento dopo elemento, una grande opera. Un pezzo unico in cui risiede arte e conoscenza. Inizia tutto da un disegno, realizzato su misura per ogni chef. Una cucina che porta la sua firma perché modellata e in base ai suoi desideri. Perché ogni cuoco possa sentirsi a casa nel proprio ristorante. E solo così rendere grande la propria idea di cucina. Pagina dopo pagina, capitolo dopo capitolo, finché è la passione a scrivere la sua storia.